L'affidamento dei servizi di pulizia a ditte esterne da parte della tua finisce nel mirino del sindacato dell'UGL. Ne fanno le spese i lavoratori che in talunni casi non percepiscono regolarmente lo stipendio se non pagato sotto forma di acconti e gli utenti perché i mezzi risultano sporchi, bagni e mense lasciano a desiderare. Intanto perché l'appalto era stato vinto ad un massimo ribasso come avviene purtroppo di consuetudine in questi tempi e 330.000 euro in meno rispetto a quello che il sistema e quindi l'ARPA spendeva per il servizio ci sembrava nascondesse qualcosa. E adesso i fatti ci danno ragione. I lavoratori dovrebbero essere adibiti per 6 ore e 40 al giorno nei vari cantieri del servizio pubblico locale e del trasporto. Invece lavorano 4 ore e 40 per le pulizie degli autobus e delle parti comuni e le altre 2,40 euro vengono mandati supermercati, altre aziende o Asile Roma Marlena. Adesso è inutile fare l'elenco. Quindi i soldi pubblici servono anche per fare altro. Questa è una cosa che noi riteniamo gravissima e che la regione che detiene l'azionista di TUA dovrebbe attenzionare molto ma molto bene. Noi lo diciamo da tempo e spesso invece dobbiamo dire che siamo inascoltati anche da parte della regione. Per cui noi abbiamo protestato ed io personalmente ho protestato vivacemente col presidente della regione quando l'UGL non viene chiamata al tavolo. E soprattutto l'UGL Autoferro Trambieri che purtroppo non ha firmato il contratto di fusione. Quindi riteniamo che questo sia anche una sorta di dire non avete firmato, non vi chiamiamo. Chiediamo alla regione appunto che è l'azionista maggiore di TUA che una volta per tutte attenzioni a questo problema e soprattutto vigili in maniera appessante sotto queste ditte.